ciao a tutti sono marco ghezza brand ambassador di bim santori per l'italia oggi andremo ad aprire degustare insieme una bottiglia di jim bim rai pre prohibition edition style pre prohibition edition style perché questo è un whisky che nel gusto ricalca le note i sentori di quei whisky ancestrali prodotti in america prima del prebizionismo è un rai whisky e questo significa che è composto da almeno il 51 per cento di segale e quindi questa segale lo rende più secco più speziato rispetto al suo fratello minore che è jim bim classico il barbon più venduto d'america al naso infatti questa speziatura si sente note di pepe di cannella questa nota di grano anche che che lo rende adorabile per una bevuta liscia ma importantissimo per la buona riuscita di tutti i migliori cocktail a base whisky americano troviamo questa secchezza e questa speziatura che lo rendono ideale per la riuscita di un buon manhattan american style cheers